Piccole piante perenni dal portamento strisciante, le fragole, sono date ad essere coltivate in un'aiola dell'orto posta in luogo semiombreggiato Dove il sole non le raggiunga per un numero elevato di ore ogni giorno, originarie del sottobosco per ben svilupparsi necessitano di un terreno fresco e umido Possono essere poste a dimora con l'ausilio del telo pacciamante, che tiene a bada le piante infestanti Grazie per la visione! Grazie per la visione! Le piccole piante producono continuamente lunghi stoloni striscianti sulla superficie del terreno, al termine dei quali in genere si origina una nuova pianta Periodicamente è bene rimuovere le nuove piante e piantarle in un'altra aiuola, in modo che la vegetazione non divenga eccessivamente ammassata La siccità prolungata inibisce la fioritura e conseguentemente anche la fruttificazione, quindi annaffiamole con cura abbastanza spesso, in modo da mantenere il terreno fresco Ma non inzuppato d'acqua Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!